Parliamo dell'imposta patrimoniale. Che cos'è? È un tipo di imposta che colpisce il patrimonio, sia mobile che immobile, ovvero il denaro, le case, le azioni, le obbligazioni, i valori ed i preziosi, sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Può essere fissa o variabile. Si tratta di un provvedimento fiscale di applicazione di un'imposta sul patrimonio di un contribuente che colpisce il capitale detenuto, quindi il patrimonio che è costituito sia dai beni del contribuente mobiliari e immobiliari, posseduti sia in Italia oppure all'estero. E ciò totalmente a prescindere dal guadagno lavorativo del contribuente. In Italia non c'è una vera e propria imposta patrimoniale soggettiva, però ci sono tante imposte che colpiscono indistintamente il patrimonio. L'imposta patrimoniale può essere di diversi tipi. Può essere fissa se viene versata indistintamente per tutti i contribuenti in modo fisso, oppure può essere variabile se il versamento dipende in funzione dal patrimonio degli stessi contribuenti. In questo caso, nel caso di imposta patrimoniale variabile, è solitamente prevista una soglia di protezione, la cosiddetta franchigia, al di sotto della quale non è previsto alcun prelievo. L'imposta patrimoniale può essere anche periodica, se viene applicata con cadenza annuale o comunque in modo periodico, oppure una tantum, se viene applicata una sola volta e senza periodicità. Attenzione perché, a differenza delle imposte sul reddito, non colpisce il flusso di ricchezza del contribuente relativo ad un determinato periodo, bensì colpisce una disponibilità di ricchezza. Attenzione quindi che non è una tassa, ma si tratta di un'imposta, perché non trova un riscontro immediato in termini di servizi, ma è utilizzata per servizi che lo Stato e gli enti pubblici corrispondono alla collettività nel corso del tempo. Gli esempi sono l'ICI, come l'imposta comunale sugli immobili e l'imposta di successione. Torniamo un attimo alle tipologie di imposta patrimoniale. Può essere reale se colpisce una sola componente della ricchezza del contribuente, come l'IMU che colpisce solamente le prime case, oppure soggettiva se colpisce tutta la ricchezza unitamente considerata del contribuente, ovvero la sommatoria di tutto il patrimonio. Può essere fisso o variabile, come abbiamo detto prima, e questi termini sono intercambiabili con i termini ordinaria o straordinaria, ripetiamo, periodica oppure una tantum. In Italia abbiamo detto non c'è una vera e propria imposta patrimoniale soggettiva. Al contrario in molti paesi esteri, specialmente i paesi del nord, dove le imposte patrimoniali sono in uso e vengono versate con cadenza annuale e questo perché servono a sostenere principalmente la redistribuzione del reddito dei contribuenti.